Buongiorno Benvenuti in questo nuovo vlog Oggi vi porto con me a noleggio Siamo sempre a bordo del buon vecchio Beulas Della buona vecchia Muccona Ho cambiato anche inquadratura per parlarvi un po' Adesso sono appena partito per trasferirmi a vuoto Alla sede centrale dell'azienda Per andare a prendere il foglio di viaggio Che come sappiamo è un documento indispensabile Dove vai a 50 all'ora? Tu e la 500L Noi a lavoro usiamo sempre la divisa Sia che si faccia servizio linea Sia che si facciano atifici Sia che si facciano leggi D'estate per fortuna abbiamo le maniche corte E ci tolgono l'obbligo della cravatta Che oggi ho comunque voluto mettere Poiché andando a noleggio Dà un'immagine sicuramente migliore Dell'azienda e del personale di guida Diciamo l'abito non fa il monaco Però la cravatta dà sicuramente un'immagine più professionale Un look più curato Che rende immediatamente riconoscibile il personale a bordo Un oleso facile oggi di un paio di orette Vediamo cosa succede Dopo attiverò anche la seconda camera alle mie spalle Partenza ore 9 da Peletto Umberto Sono giusto giusto con gli orari Oggi la sveglia come tutti i giorni su questo turno È suonata alle 5.30 di mattina Ho già fatto il mio primo servizio Ora avendo svariate ore libere L'azienda ci inserisce Quando possibile altri servizi Per sfruttare il personale a disposizione E di mezzi come questo Che altrimenti resterebbe parcheggiato Fino alla ripresa del mio turno 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti